Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata nel nostro magazine religioso La Chiesa nella città. Questa settimana nel salotto con i nostri ospiti ci occupiamo di un tema importante per la Chiesa ambrosiana, appunto la riforma del lezionario ambrosiano e quindi vi presento subito i nostri ospiti di oggi. Monsignor Claudio Magnoli che è liturgista, segretario della congregazione per il rito ambrosiano e canonico del Duomo. La signora Mariuccia Ceredda che fa parte del gruppo liturgico della parrocchia Santa Andrea a Carugate e Don Francesco Braschi che è studioso dei padri della Chiesa di Ambrogio e dottore incaricato presso la biblioteca Pinacoteca ambrosiana. Iniziamo con Monsignor Claudio Magnoli, abbiamo detto segretario della congregazione del rito. Prima di tutto cos'è il lezionario. Il lezionario è un libro per la celebrazione liturgica che raccoglie in modo ordinato tutte le letture necessarie per ascoltare la parola di Dio nel corso dell'anno, dalla lettura dell'Antico Testamento all'Epistola di Paolo al Vangelo. Naturalmente ci sono anche altri elementi che nel cammino dell'anno liturgico poi entrano in questo libro che sta sull'ambone per i lettori, il diacono e il sacerdote e per il Vangelo della risurrezione che poi spiegheremo di cosa si tratta sta sull'altare. Signora Mariuccia in una parrocchia della grande diocesi come ci si prepara a questo inizio con il nuovo lezionario ambrosiano che, lo ricordiamo, avverrà la sera di sabato 15 di novembre. Con l'inizio dell'avvento, con un tempo liturgico forte e inizierà questo approccio con il nuovo lezionario, la gente per ora si chiede come mai adesso c'è questa novità, c'è questo fermento, non andavano bene i testi che avevamo, i lezionari che avevamo? Perché ci sono questi cambiamenti nel 2008? Ecco, perché Monsignor Magnoli questi cambiamenti? Le letture che abbiamo ascoltato per più di 30 anni andavano bene, erano la parola del Signore, secondo un metodo di ascolto che noi abbiamo preso in prestito per gran parte dal lezionario romano. Nel 76, quando ci fu la riforma del messale del lezionario ambrosiano, il lezionario scelse questa strada, una piccola parte ambrosiana già pronta ad esperimentum, provvisoria e gran parte il lezionario romano in attesa che cambiando e ragionando meglio sulle cose si potesse completare. Il sinodo del 1995, 47esimo della nostra diocesi, ha dato un mandato chiaro, superare il momento della sperimentazione. C'è voluto del tempo, quasi 13 anni, ma il 2008 ci ha portato questo dono per tutta la diocese. Insomma, una preparazione Don Braschi lunga, ma che è addirittura lunghissima se consideriamo che questo rito affonda le sue radici in epoche veramente remote che si rifanno a Sant'Ambrogio, diciamo sempre chiesa ambrosiana, vogliamo dirlo, il nome viene da Sant'Ambrogio, patrono. Certamente perché sebbene noi sappiamo che Ambrosio, diventando vescovo di Milano, trovò una chiesa che era già organizzata anche dal punto di vista delle strutture liturgiche, per quanto ciò fosse possibile nel IV secolo, tuttavia da Ambrosio abbiamo la possibilità di raccogliere una notevole serie di elementi che ce lo fanno vedere come un vescovo particolarmente attento alla strutturazione della liturgia. Noi abbiamo ad esempio alcuni indizi nelle sue opere che riguardano l'utilizzo di determinate letture, per esempio quelle che conosciamo tutti della Quaresima, sono in gran parte attestate già al tempo di Ambrosio. Abbiamo degli indizi in Ambrosio delle letture che venivano usate nella settimana dopo Pasqua. Abbiamo addirittura in Ambrosio degli indizi chiari del fatto che nella chiesa di Milano del IV secolo fosse normale leggere un brano dell'Antico Testamento, l'Epistola di Paolo e il Vangelo. Ecco, questa è una cosa che mi piace sottolineare. Forse oggi sono pochi quelli che si ricordano cosa avveniva prima della riforma liturgica del Vaticano II. Il rito romano, prima della riforma liturgica, aveva una sola lettura pre-evangelica, cioè l'Epistola, e nelle ferie, nei giorni feriali, si ripeteva la lettura della Domenica. Il rito ambrosiano, anche in quell'epoca, aveva mantenuto la specificità di un'ampia serie di letture, tra cui le letture veterotestamentarie e la triplice lettura per la Messa. Ecco, Monsignor Magnoli, le principali novità? La prima novità la chiamerei una ristrutturazione dell'anno liturgico, accogliendo nel lezione quelle che erano le arcate fondamentali della tradizione ambrosiana. Segnalo soprattutto il venir meno di un tempo generico che chiamavamo tempo ordinario per dare spazio a un tempo dopo l'Epifania e a un tempo dopo Pentecoste, a sua volta quest'ultimo diviso in un tempo dopo Pentecoste in senso proprio, tempo dopo il martirio di San Giovanni il precursore e tempo dopo la dedicazione della Chiesa Cattedrale. Una seconda caratteristica di rinnovamento è l'attenzione della Messa che inizia il giorno festivo della Domenica al sabato sera. Ecco, diciamo questo perché è uno dei punti più complessi da comprendere. L'intuizione è molto semplice. Il giorno liturgico inizia con il tramonto del sole del sabato quando si accendono simbolicamente le luci del giorno di festa. Celebriamo questo inizio della festa in modo vigiliare, cioè entrando in un clima di attesa di incontrare il Signore, lo sposo della Chiesa che si presenta alla sua Chiesa come il Signore risorto. Per questo la gemma di questa liturgia vigiliare, che nella forma più solenne riprende in parte il vespero primo della Domenica, sarà la proclamazione di un Vangelo della Risurrezione. Una pagina che va ad attingere ai quattro evangelisti per annunciare, proclamare la gioia della Chiesa di riconoscere che il Signore, colui che era morto per noi sulla croce, è il vivente in mezzo a noi. Ecco signora, io sono un po' curiosa di capire che cos'è un gruppo liturgico in una parrocchia, per esempio nella sua di Sant'Andrea. Nella mia parrocchia questo gruppo liturgico è organizzato, lavora da parecchi anni e quindi quando ci sono anche questi rinnovamenti, queste novità, ci si incontra, ci si trova, proprio in modo remoto e quindi non si arriva mai in preparati. Anche questa novità dei lezionari, come gruppo liturgico abbiamo avuto dei fascicoletti, il sito della diocesi, già prima dell'estate aveva inserito dei sussidi. Insomma vi sentite appoggiate diciamo in questo aiuto. E quindi li abbiamo distribuiti durante l'estate, chi li ha lette e chi non li ha lette, comunque ecco ci parliamo, dialoghiamo, ci scambiamo un po' queste idee, però alla gente non siamo ancora arrivati. Quindi aspettiamo di ritrovarci tutti assieme e veramente, seriamente partire con una programmazione. Non so se è giusto dire così. Quindi mi sembra che almeno all'inizio si debba trovarsi per programmare la messa. Ma ecco, abbiamo detto il legame con Ambrogio, ma c'è anche un legame un po' più recente, ma sempre pluricentenario. Lei è dottore incaricato presso la Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana, che sappiamo fu fondata da Federico Porromeo, che ha legame quindi con la tradizione di San Carlo, copatrono della nostra Chiesa. Possiamo dire che questa riforma del lezionario è anche un modo di ritornare alle radici dell'ascolto? Come chiede d'altra parte anche il Cardinale? Certamente le radici dell'ascolto è di un ascolto ben preciso, un ascolto particolare. Un tratto genuinamente ambrosiano che ritroviamo nel nuovo lezionario riguarda proprio il modo con cui sono state composte le celebrazioni e quindi le serie classiche di tre letture nella stessa messa. Ambrogio era assolutamente convinto che quello stesso Spirito Santo che ha ispirato gli agiografi a scrivere i libri della scrittura agisce anche in chi la vuole interpretare. E addirittura il modo in cui questa presenza si rendeva ancora più tangibile era quello della celebrazione liturgica. Ecco dunque che l'accostamento di tre letture permette di raccogliere una risonanza nuova che lo Spirito provoca all'interno della celebrazione. Per cui noi avremo un brano di Vangelo che resta il cuore della celebrazione. Questo brano illumina e interpreta una prefigurazione, un preannuncio di quella realtà riferita a Gesù che troviamo nell'Antico Testamento, la lettera di Paolo ci fa cogliere quasi in diretta il nascere della lettura cristiana della Bibbia. Ecco, io ringrazio i nostri ospiti che sono stati Monsignor Claudio Magnoli, segretario della Congregazione del Rito Ambrosiano, Mariuccia Cereda impegnata in un gruppo liturgico e Don Francesco Braschi che è dottore incaricato presso la Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana.